Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di vigilia del mister Massimiliano Allegri. Prego con la prima domanda. Buongiorno mister Enrico Zambruno, Juventus TV. Le chiedo, la partita di domani di Marassi è più un test in vista della finale di Coppa Italia, quindi tendenzialmente da mettere tutti coloro che le ha in testa titolari in vista del match contro l'Inter oppure un match per poter farli riposare e alternare ovviamente con l'obiettivo della vittoria. Grazie. E' tutto buongiorno a tutti, scusate l'orario ma non abbiamo altra scelta, se vi fate alzare presto dal letto. Magari qualcuno piace dormire, te sei uno di belli. Basta di dirlo, io accontento tutti. Basta me lo fate sapere, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda la partita di domani, la partita di domani comunque è una partita dove noi da qui alla fine del campionato ne mancano tre e bisogna cercare di fare i più punti possibili. Abbiamo raggiunto un obiettivo che è quello del quarto posto minimo per l'entrata in Champions con tre giornate di anticipo e quindi siamo contenti di questo. Abbiamo a preparare una finale Coppa Italia tra sei giorni e domani abbiamo una partita contro una squadra che ha ancora possibilità di servarsi dove dobbiamo fare una bella partita e dove andrà in campo la formazione migliore. Vi dico subito che Danilo riposerà perché comunque con questa fascina di plantare che ha avuto ultimamente si era allenato poco e allora visto che abbiamo raggiunto l'obiettivo gli ho dato qualche giorno di riposo per riaggregarsi alla squadra da domenica mattina. Pellegrini alla Caviglia in disordine non sarà a disposizione, tutti gli altri saranno a disposizione. Rientrerà a quadrato, ci sarà De Ciglio, anche se Mattia poi dopo nella finale a Roma non ci sarà. Bisogna fare una bella partita e cercare di fare risultati perché poi comunque i risultati positivi aiutano a fare meglio l'allenamento, a preparare meglio le partite. Buongiorno mister Marco Venditti, signor Emia Calcio News, la Coppa Italia è l'unico traguardo che c'è quest'anno, ovviamente acquisita la posizione Champions League. Se può essere questo una carica in più, un biglietto da visita per il prossimo anno. Non so se già gliel'ho fatta questa domanda, chiedo scusa nel caso. E poi se lei ha avuto sicuramente modo di vedere ieri la semifinale, quanto è distante il calcio italiano da queste competizioni, considerando che lei è esperto perché ha fatto due finali, quindi non è che è una cosa nuova per lei. Grazie. Allora, per quanto riguarda, partiamo dalla prima, chi era quella della Coppa Italia? La Coppa Italia è un obiettivo come quando partiamo dall'inizio della stagione, è un obiettivo al campionato, è un obiettivo alla Champions, sapendo che comunque in questo momento è una competizione molto difficile da vincere, ma comunque l'ambizione di dover far bene, di poter far bene, quella c'è sempre quando, io dico sempre che niente è impossibile, perché questo fa sì che tutto può diventare possibile, altrimenti se pensiamo che non possiamo raggiungere gli obiettivi, è un limitatore che ci mettiamo e questo non va bene. La Coppa Italia è uno degli obiettivi, ci giocheremo questa partita mercoledì e quindi siamo contenti di esserci arrivati. Per quanto riguarda la partita di ieri sera, prima di tutto devo fare i complimenti a Orzato perché Orzato ha arbitrato una partita in modo straordinario, con una sicurezza e una tranquillità, veramente da qual è che è lui, secondo me il miglior arbitro. E poi per quanto riguarda il livello, è un livello tecnico talmente alto, tecnico e fisico, che è stato una partita meravigliosa, anche sotto l'aspetto mentale, di nuovo Real Madrid ha dimostrato che le partite non finiscano mai, che comunque l'aspetto caratteriale fa la differenza, oltre che all'aspetto tecnico e fisico. Poi per quanto riguarda, non è il calcio italiano che è lontano, negli ultimi dieci anni la Juventus ha raggiunto due finali di Champions e quindi diciamo che è un buon risultato. È normale che poi dopo la Juventus sta cambiando, ha cambiato molti giocatori negli ultimi tre anni, non sempre nel calcio si può arrivare a ottenere certi risultati, c'è momento in cui devi riprendere a fare risultati, perché gli altri comunque hanno costruito dopo di te e in questo momento sono molto più avanti. Io come ho detto tante volte, ma credo che non sia una, diciamo la realtà, ci sono sei squadre in Europa che sono nettamente più forti delle altre, che sono Real, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea e Liverpool. Poi dopo l'ambizione di arrivare in finale ce l'abbiamo tutti, poi dopo la realtà è un'altra cosa. Se uno prende coscienza della realtà, dopo è più facile far bene, perché altrimenti uno pensa adesso una cosa invece un'altra. E lì è l'errore più grosso. Poi come tutte le cose ci vuole equilibrio, ma è una cosa normale, va accettata, anzi è da stimolo per migliorare, arrivare a tornare a fare certi risultati. Comunque l'errore è stata una partita meravigliosa. Buongiorno mister Nicola Gallo Mediapason, due cose. Se domani sera poteva essere una partita di un turno, averla davanti per dare continuità anche a Dybala e Ken, che sono partiti per esempio in panchina, se c'è una normale alternanza oppure no. E poi visto che abbiamo parlato di Champions, se le faccio una domanda che hanno fatto anche a Dancelotti, se voleva commentare le parole di Cassano. Questa volta è stato il suo turno. Il mio? No, no, io non ho socio, non ho niente. Io posso dire solamente una cosa che devo fare complimenti a Carlo perché veramente ha fatto una cosa straordinaria. E quindi sono molto contento perché credo che sia stato anche un allenatore dopo tutto quello che ha vinto, dopo tutto quello che ha fatto, molto criticato perché non è un allenatore di moda. E invece, come dico sempre, le mode passano, però dopo i classici rimangono. E Carlo credo che sia un allenatore classico. Come il vestito blu e il il vestito grigio, uguale. Non passano mai di moda. E però ha dimostrato, credo che per lui, una soddisfazione immensa aver vinto 5 campionati nei primi 5 leghe diverse. E ha la possibilità di vincere 4 Champions. Quindi credo che c'è solo da ammirarlo e fare i complimenti e battere le mani. Le punte domani possono giocare insieme. Vediamo. Oggi deciderò perché devo vedere un po' chi sta in piedi. Però stiamo tutti abbastanza bene. Buongiorno mister. Francesco Pellino, agenzia area. Vorrei tornare alla Juventus e chiederle di Zaccaria. Dopo un inizio di buon livello, nelle ultime partite il suo standard sembra che stia un po' scendendo. Quale può essere il motivo? Motivo perché comunque è difficile che un giocatore giochi tutte le partite bene. Una volta giochi bene, una volta giochi bene bene, poi ritorni a giocare bene, poi ne fai una male, poi ne fai un'altra male. Comunque lui è arrivato a un campionato diverso, allenamenti diversi, ritmi anche diversi. In Italia c'è più tattica, c'è più dispendio di energia a livello mentale. Però io sono molto contento di quello che sta facendo, anche perché è un ragazzo che apprende, intelligente e ci sta dando una grossa mano. Buongiorno, Fabrizio Ferrero, Mediaset. Prima ha detto che domani giocherà la squadra migliore. Quando ci sono partite come questa, che diciamo in campionato chiaramente avete al massimo l'orgoglio del terzo posto ancora da raggiungere, perché come ha detto il quarto è stato raggiunto, e c'è invece una finale di Coppa Italia, magari anche il giocatore pensa più a quella partita che a quella che sta per fare. Allora è meglio magari puntare su quelli che vogliono provare a ritagliare su uno spazio per la finale, quindi chiamiamoli le seconde linee, o come diceva, magari continuare a puntare sui possibili titolari, perché vincere aiuta a vincere, perché comunque è un equilibrio che forse va a pesare più sulla mente che sulla tattica. Prima e seconde linee, diciamo che siamo in 14, perché comunque abbiamo ancora dei giocatori fuori, ora rientra De Sciglio e Quadrato, che però De Sciglio mercoledì non c'è, però domani abbiamo fuori Danilo. Domani comunque noi siamo, cioè la Juventus comunque quando gioca le partite gioca per vincere. Andare in giro e fare brutte figure non è da Juventus, quindi domani dobbiamo fare una bella partita. Comunque poi è stimolante perché giochiamo in uno stadio che sarà pieno, una squadra che lotta ancora per la salvezza, e noi comunque bisogna cercare di fare i più punti possibili. Quindi domani bisogna fare assolutamente una bella partita. Tra l'altro, anche tecnicamente dovremmo fare meglio perché? Perché siamo sgombri dalla pesantezza che avevamo fino a tre giorni fa di arrivare al quarto posto. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport. Insomma, da quanto abbiamo capito De Sciglio domani giocherà proprio perché salterà la Coppa Italia. Magari mi sbaglio, ma mi pare di aver intuito così. Invece le chiedo di Quadrado se invece è meglio preservarlo per domani e anche Zaccaria che ha giocato tanto ultimamente e forse l'ha preservato. Le chiedo se ci può essere ancora spazio per Miretti. Miretti è a disposizione. Credo che abbia la possibilità di giocare. Per quanto riguarda vediamo oggi Artur con la caviglia come sta. Ieri ha fatto un buon allenamento, vediamo oggi e cercherò magari un attimino di girarli. Per quanto riguarda De Sciglio è normale che non giocando mercoledì, se domani riuscisse a fare 90 minuti, mi farebbe anche in favore. Però vediamo. Il ministro Gianluca di una stampa. Una curiosità, ma poi la gara con Vlaovic chi l'ha vinta? Perché non si è capito dagli spalti. Alla fine, con l'ultimo tiro, l'ultimo tiro ho fatto gol e quindi ho vinto io. Lui ha fatto gol quando non contava. A proposito di Vlaovic, però, come l'ha visto? Come sta procedendo anche in queste ripetizioni che l'ha dato in campo, da quello che si è potuto vedere? E cosa le chiede per domani se gioca o se invece deve riposare per la Coppa Italia? Grazie. A Dugia sta facendo. Io sono molto contento di quello che sta facendo. e non mi aspettavo che si riuscisse a entrare così bene all'interno della squadra, all'interno della Juventus. Perché è arrivato a gennaio, a fine gennaio, e quindi ha fatto anche tanto rispetto a quello che secondo me poteva fare. Comunque, arrivando a campionato in corso, doveva conoscere i compagni, doveva mettersi a disposizione. Invece ha fatto molto bene e sono molto contento. Quindi credo che, come per lui, come per tanti altri giocatori, e soprattutto per la squadra, si possa solamente che migliorare. Domani è probabile che giochi. Buongiorno, mister. Alberto Mauro, messaggero di Juventus News24. Qualche giorno fa Bonucci ha detto che quest'anno la Juve ha pagato un po' l'inesperienza e l'inserimento di alcuni giovani. Come mai, invece, all'estero, anche in grandi club, a 18-19 anni, giocano spesso titolari? Grazie. Allora, innanzitutto, anche questa cosa qui, che giocano spesso titolari, come giocano da noi, ci sono dei giocatori che giocano. Ora Merete sta giocando, e quindi i giovani, se sono bravi, giocano. Poi dopo, vorrei, ora questa cosa qui mi incuriosisce, ora mi faccio entrare a fare tutte le statistiche e voglio vedere in che squadra giocano e quanto giocano. Perché dopo c'è anche un modo un po' di generalizzare un po' la cosa. Perché all'estero fanno sempre meglio di quello che facciamo in Italia. Allora, sarebbe meglio che noi in Italia facciamo quello che sappiamo fare. I giocatori giovani sono usciti, ci sono giocatori giovani bravi. È normale che, come tutti i giocatori giovani, più giocano e più fanno esperienza, ma questo fa parte di tutti i lavori del mio lavoro, del vostro lavoro. Io credo che quando avete iniziato non è che scrivevate come ora, perché l'esperienza, la sicurezza, la tranquillità ce l'hai solo facendo esperienza. Nessuno nasce imparato. È che in Italia poi dopo si tende a avere dei picchi alti sui fenomeni calcistici in generale e poi dopo una settimana si ributtano giù. Poi dopo si tirano su e dopo si ributtano giù. Non sono pesci che si pescano e poi si ributtano un mare. C'è un percorso che va fatto. Giocando, se uno è bravo, è normale che migliora l'esperienza in tutto. La Juventus, tra l'altro, devo fare i complimenti a Zauli, che ieri con l'anno del 23 per la prima volta a Juventus ha passato due turni dei play-off di Lega Pro, col fatto della seconda squadra la Juventus sicuramente ha più vantaggi perché i ragazzi giocano un campionato importante, dove contano punti, dove giocano contro giocatori esperti, dove vanno in campi, dove trovano difficoltà, dove le partite diventano partite di calcio. Ieri sera ho visto anche la partita dell'anno del 23 e già si vede che comunque hanno già una mentalità rispetto a quello che può essere una primavera, dove lo stacco è talmente ampio con la prima squadra che è difficile. Quindi il fatto di avere la seconda squadra per la Juventus è molto importante. Buongiorno, Dan Giora e Sport. Parlando di attaccanti, in questo momento sono tutti un po' al centro dell'attenzione in questo finale di campionato per diversi motivi. rinnovi, riscatti, il capitolo di Bala. Quanto è difficile per lei e quanto ci sta mettendo attenzione a tenerli concentrati sul finale di stagione e non su tutto il resto? E poi parlando di mode e di classici che non passano mai di moda, lei si sente un classico che non viene più tanto capito? No, no, ma io devo essere capito da miei giocatori quando dico le cose. Io dico solamente che Ancelotti, a cui c'è solamente da imparare e da chiedergli le cose, perché un allenatore che ha vinto quello che ha vinto lui, così come l'è stato Capello, così come è stato Lippi, quelli allenatori che hanno vinto. Mettiamoci anche sacchi, sennò poi si può prendere con me, per Maloso un po', quindi sono quegli allenatori che come Klopp, Guardiola, ognuno ha il suo modo di pensare, quindi diciamo che il calcio è più semplice di quello che sembra. Detto questo, le punte e gli attaccanti, siamo a tre giornate alla fine del campionato, c'è una Coppa Italia da raggiungere, tutti si mette a disposizione, sia per la società che per loro stessi, perché tanto dopo alla fine quello che conta è il rettangolo verde, si può chiacchierare fuori tutto quello che si pare e va benissimo, non si può stare tutta la giornata a chiacchierare e parlare, poi dopo invece il rettangolo verde è quello che dà i voti e dà la sentenza di quello che uno fa. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera, alla luce di quanto hai detto sui giovani ti chiedo, Miretti, da qui alla fine del campionato, compresa la Coppa Italia, quanto spazio potrà avere quest'anno, visto che non ci sono troppe pressioni. Guarda, così almeno siete, domani gioca. Oh, siete contenti? Va bene? Domani gioca. Non so dove gioca, ma gioca. Chi sono? Decilio speriamo. L'ho detto che mi faccia un favore a fare 90 minuti. Chi è? Miretti, po' chi c'è? Decilio. Rabiot. Rabiot. Poi basta. E Scesni, Scesni, Scesni. Portiere ce lo mettiamo un po'. Come? Come vale? Potevano dire Perin? La novità è la notizia. No, invece la novità è Scesni, perché voi pensavate che domani gioca Perin? Invece niente, gioca Scesni. La finale? Chi l'ha detto? Che ne sa? Buongiorno mister, Domenico Marchese della Repubblica. Lei prima ha parlato dell'arbitraggio di Orsato. E' parso un metro diverso rispetto a quello che applica in campionato. Le chiedo come mai non viene applicato in campionato e se dipende dal livello dei giocatori in campo, dal livello atletico che c'è in campo, oppure se c'è la consapevolezza che in Europa si fischia di meno e quindi ci sono anche meno proteste. Grazie. No, io invece dico che è il modo nostro di vedere le cose. È come quando si dice una cosa, ci sono i modi per dirla, cioè per raggiungere un obiettivo ci sono diversi modi per dire le cose. Orsato ha arbitrato nel stesso modo che ha arbitrato in Italia. La differenza è che in Italia lo vediamo in un certo modo. All'Europa, in Europa lo vediamo in un altro modo. Così come gli altri arbitri italiani. Gli arbitri italiani sono bravi, poi c'è qualche ragazzotto che deve fare esperienza, come tutti, e ci sono quelli che hanno tante partite e quelli che sono più bravi. Perché anche lì non possiamo pensare che abbiamo 20 arbitri, 30, non so quanti sono, che sono tutti bravi. Anche lì ci sono le categorie. Le categorie sono state fatte per quello. E Orsato è più bravo, appunto, senza togli niente agli altri. Ciao, buongiorno. Max Nerozzi, Corriere della Sera, Corriere del Torino. Ti chiedo, la partita di Coppa Italia, quanto sposta nella tua valutazione della stagione, nella Juve, nella tua, nel giudizio che ti dai e a quel che avete fatto? Ti ringrazio. Non sposta assolutamente niente, sposta solo il fatto di riuscire a portare a casa il trofeo. In una serata che sarà bellissima, una bellissima serata di sport a Roma. Credo che l'anno scorso, per due anni credo, forse solo l'anno scorso, non mi ricordo, la Coppa Italia è stata giocata davanti a poche persone. Tra l'altro l'anno scorso è stata giocata a Reggio Emilia. Quest'anno si gioca a Roma con una cornice di pubblico diversa, con una pressione diversa. Quindi è una serata molto più bella di sport da vivere. Comunque quando ci sono queste serate sono eventi sportivi che comunque viverli è la cosa più bella. Poi se siamo bravi e fortunati la portiamo a casa. L'importante però è essere lì a giocarla. Le ultime due. Buongiorno Antonino Milone, Tutto Sport. Volevo appunto insistere sulla partita di mercoledì e chiederti. C'è un entusiasmo crescente da parte della tifoseria juventina. Non è soltanto una finale di Coppa Italia, è Juve-Inter dopo tutto quello che è successo contro i Nerazzurri quest'anno. C'è un messaggio di ulteriore ottimismo, di positività che puoi dare appunto a questa tifoseria che non vede l'ora che arrivi mercoledì. Grazie. Ma tanto bisogna di positività. Siamo tutti in attesa della partita di mercoledì. Comunque è una finale. Però prima di mercoledì c'è la partita di domani. Mancano ancora cinque giorni. Quindi bisogna arrivarci con serenità e lucidità nel sapere di affrontare l'Inter, che comunque è Juve-Inter, è derby Italia e che ha la squadra più forte del campionato. L'ultima. Buongiorno Valerio Clari, Gazzetta. Vincendo le ultime tre puoi arrivare a quota 78 in campionato. Nelle tue tabelle era una quota che avevi considerato? Ci sono stati molti più imprevisti di quelli che ti aspettavi rispetto all'inizio? Dopo le partite di campionato, la tabella per arrivare a 78-80-81, era quella che bisognava non perdere con l'Inter, vincere con il Bologna. Non avevamo più bonus da giocarsi. Il fatto di essere arrivati già a 69, essere già a quarti, abbiamo fatto un ottimo risultato visto che tre mesi fa eravamo molto lontani dal quarto posto. E noi cercheremo di fare il meglio possibile, soprattutto perché comunque bisogna finire nel miglior modo. Grazie a tutti. Buona giornata!